Ben ritrovati, siete pronti a ricordare una grande artista, un'icona del pop, anzi il re del pop? Oggi infatti il nostro ospite virtuale in questo spazio è Michael Jackson, che è ormai scomparso da quasi 15 anni. Era giugno del 2009, infatti, quando la notizia della sua morte sconvolse milioni di fan. Fan che ancora oggi lo ricordano e rivivono i successi di Jackson, tramite le sue canzoni o le notizie su di lui. Come è accaduto la scorsa estate, quando si è saputo della riapertura dell'inchiesta sui presunti abusi sessuali e danni di minori. Ma ciò che più ci interessa sono i suoi balli, la sua timbrica, le sue hit e i suoi record, come il fatto di detenere il maggior numero di canzoni al numero 1 della classifica Billboard Hot 100. Ebbene, di recente c'è qualcuno che lo ha anche eguagliato, questo primato. Si tratta del rapper canadese Drake, che ha tagliato il traguardo, ottenendo lo stesso record di Jackson, con la prima posizione della canzone First Person Shooter, successo raggiunto appunto nella classifica Billboard Hot 100. Il rapper dunque è riuscito ad arrivare a vedere 13 sue canzoni alla numero 1 della classifica. La canzone First Person Shooter è una collaborazione con lo statunitense J. Cole e segna quindi anche un altro successo, cioè la prima volta in cui l'artista della Carolina del Nord raggiunge la vetta della classifica. Il traguardo di Drake fa parte comunque del successo più ampio del suo ultimo album, cioè For All The Dogs, che ha debutato alla posizione numero 1 nella classifica Billboard 200. Il disco ha generato un equivalente di 400-2000 unità, delle quali 391.000 sono rappresentate dallo streaming, mentre le restanti provengono dalle vendite dell'album fisico. Come ha fatto notare Billboard, è ironia della sorte o del destino, proprio First Person Shooter, è una canzone nella quale Drake sottolineava di essere a un passo dai Michael Jackson. Per quanto riguarda il numero complessivo di brani alla posizione numero 1, invece sia Drake che Jackson occupano la quarta posizione. Al primo ci sono i Beatles, che rimangono imbattuti con 20 canzoni appunto in vetta. Dopo i Fab Four ci sono Mariah Carey con 19 e poi Rihanna con 14. Ma torniamo allora a Michael Jackson con un suo brano che abbiamo scelto oggi per voi. Si tratta di Dirty Diana, estratta dall'album Bad del 1987. Ne era il quinto singolo pubblicato appunto dal settimo album in studio. Fu uno dei cinque singoli consecutivi estratti dall'album ad arrivare alla posizione numero 1 della classifica generale di Billboard e poi piazzandosi alla numero 1 anche in quella europea. Nel 2018 è stato certificato disco di platino dalla RIA per vendite pari a oltre un milione di copie solo negli Stati Uniti. Ma chi era questa Dirty Diana? Si è discusso molto, qualcuno sosteneva che si trattasse di Diana Ross, che da giovane si pensa che abbia avuto una relazione con Jackson, altri invece che si trattasse di una groupie e ancora altri che fosse ispirata da Lady Diana. Per Quincy Johnson nel 2001 la canzone fu ispirata proprio dalle gruppi, cioè quelle ragazze che accompagnavano le rockstar in gran parte delle loro tournée. L'ipotesi invece che si tratti della Ross è stata ampiamente smentita, dato che lei stessa ha poi spesso usato il brano come introduzione durante i suoi concerti, prima di salire sul palco. Michael Jackson invece aveva confermato nel corso di un'intervista nel 1997 con Barbara Walters che il testo non faceva riferimento nemmeno alla principessa Diana. Anzi, lei aveva personalmente confidato al cantante che si trattava del suo brano preferito nel repertorio di Jackson. Pare comunque semplicemente che lui, l'artista, avesse scelto il nome Diana perché suonava bene all'interno del pezzo. Scritto, composto, interpretato dunque da Michael Jackson, siamo pronti a riascoltarlo insieme.